CELSI, Spoken Easy Language for Social Inclusion Il dipartimento dei servizi educativi della Fondazione Musei Civici di Venezia che si chiama Move Education ed è un dipartimento che progetta e coordina le attività educative in 11 sedi museali, non so se le vedete ma sono quelle immaginine piccoline che trovate sul lato destro della slide Ci rivolgiamo al pubblico con proposte educative ideate ed elaborate in linea con i principi della progettazione universale Poniamo sempre al centro il concetto di partecipazione e di promozione del diritto alla cultura Siamo chiaramente un servizio rivolto alla comunità e come tale quindi tutte le nostre attività possono essere rimodulate e ripensate in base ad eventuali esigenze specifiche Vi racconto adesso l'esperienza laboratoriale dall'Opera Racconto che ha come rete di progetto il nostro dipartimento quindi Move Education il servizio pronto intervento sociale, inclusione e mediazione del Comune di Venezia ex ufficio immigrazione con il quale collaboriamo dal 2015 con una serie di attività di accoglienza e di inclusione con i nuovi cittadini che abitano nella nostra città di Venezia Di questa rete di progetto fanno parte anche un gruppo di studenti della scuola secondaria di primo grado che frequentano da novembre a giugno un doposcuola a Mestre, il doposcuola di Via Costa Sono tutti ragazzi tra i 13 e i 16 anni provenienti da paesi e culture diverse che hanno livello linguistico tra la 1 e la 2 e che sono in Italia da un anno chi qualche mese in più, chi qualche mese in meno e che purtroppo hanno anche dei vissuti personali molto tragici L'intento di questo laboratorio è di fornire un supporto concreto e pratico a questi ragazzi che si devono preparare poi a giugno all'esame di licenza media per chi non è italiano specifico che la scuola secondaria di primo grado prevede al terzo anno un esame finale Questa attività prevede una fase di pre-progettazione necessaria per me per conoscere il gruppo di ragazzi con cui lavorerò per quattro mesi e il primo incontro è una sorta di incontro di accoglienza e conoscenza del gruppo che si svolge in uno dei nostri musei La scelta del museo viene fatta direttamente dai ragazzi Non so se riuscite a vedere le immagini questi sono i ragazzi che stanno frequentando il laboratorio in questo momento e hanno scelto come sede museale Palazzo Mocenigo il nostro centro studi di storia del tessuto, del costume e del profumo L'allestimento di questo museo c'è particolarmente utile per svolgere attività con approcci interculturali e plurisensoriali In particolare l'attività che svolgiamo con questi ragazzi che è una prima attività di icebreaking prevede appunto la scoperta e l'esplorazione tattile e olfattiva di materie prime di origine vegetale e animali che gli antichi veneziani acquistavano nei porti più importanti nel Mediterraneo per produrre profumi Questo approccio interculturale e quindi la conoscenza l'esplorazione di queste materie prime creano una sorta di zona di contatto di spazio libero in cui i ragazzi scambiano con me conoscenze L'attività si conclude con la produzione con la realizzazione di un piccolo profumo che poi i ragazzi si portano a casa Sempre al termine di questa prima attività di accoglienza i ragazzi mi comunicano inoltre alcuni temi a loro cari e che appunto interessano loro che vorranno poi andare ad analizzare e andare a lavorare nel laboratorio vero e proprio che si svolge alla Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro I temi sono tra i più vari Ad esempio quest'anno sono stati scelti lo sport l'immigrazione l'apartheid il dono il colonialismo e molti altri ancora Dopo l'attività chiamiamo l'attività zero di accoglienza al museo di Palazzo Mocenigo i ragazzi si ritrovano al doposcuola di Via Costa a Mestre dove condividono tra loro il resoconto dell'uscita dell'attività svolta in museo compilano una serie di schede illustrate collegate ai temi e ai contenuti trattati sempre attraverso delle frasi molto brevi e semplici la sperimentazione poi del laboratorio vero e proprio si svolge in otto incontri quattro al museo di Capesaro e quattro al doposcuola negli incontri a Capesaro andiamo a conoscere e discutere assieme di alcune opere che ho personalmente selezionato e che sono collegate agli interessi quindi ai temi scelti dai ragazzi l'obiettivo di questa attività è che poi i ragazzi scelgano sono un'opera su cui lavorare con esercitazioni orali e scritte per prepararsi all'esame di licenza media le strategie e gli strumenti impiegati nelle varie fasi includono visite esperienziali in museo momenti di brainstorming conversazioni guidate elaborazioni di mappe collettive esercitazioni orali e scritte e tutti questi metodi partecipativi che svolgiamo insieme vengono monitorati all'inizio durante e alla fine dell'attività proprio per poi effettuare una valutazione dei processi educativi come vi dicevo all'inizio è un'attività che svolgiamo da quattro anni e quindi con le esperienze precedenti abbiamo effettivamente constatato che gli studenti sviluppano o migliorano le proprie competenze linguistiche di comunicazione e di relazione acquisiscono nuove conoscenze storico-artistiche del patrimonio veneziano in particolare delle collezioni della nostra fondazione e quindi della città che è diventata di fatto la loro nuova residenza e in più potenziano le proprie capacità espressive e creative nel primo incontro di Capesaro come vi dicevo andiamo quindi a visitare il museo attraverso delle opere collegate o che si relazionano ai temi scelti dai ragazzi adesso faccio scorrere delle slide in maniera molto veloce quindi qui ad esempio c'è il tema del dono dell'apartheid della fotografia e questi approcci che facciamo con queste opere si svolgono in modalità di slow looking and slow talking quindi cerco di guidare l'osservazione anche attraverso l'esplorazione tattile vedo che non soltanto con questi gruppi ma in generale lavorare a livello plurisensoriale aiuta molto a far comprendere meglio determinati concetti faccio domande aperte semplici per ogni opera cerchiamo di individuare assieme delle parole chiave che scriviamo poi su un cartellone queste parole chiave man mano che effettuiamo gli incontri e ci troviamo aumentano e si relazionano con magari degli aggettivi e cominciano a diventare anche delle frasi un po' più ricche creiamo collegamenti anche con materiale di supporto quindi con la musica e la fotografia l'intento nostro è soprattutto quello di incoraggiare i ragazzi a lavorare assieme non c'è giudizio chiaramente per interagire e scambiare idee ma anche per cooperare in gruppo rispettosamente ascoltando le opinioni altrui per quanto riguarda le strategie linguistiche queste che vi elenco sono risultato di 22 anni di lavoro in museo quindi non sono assolutamente un'esperta di spoken easy language e quindi sono veramente molto felice di essere qui e non vedo l'ora di vedere le vostre linee guida perché sono certa che potremo migliorare il nostro lavoro io cerco sempre di introdurre l'attività con degli avverbi di tempo quindi con un prima poi alla fine dopo parlo lentamente utilizzo nomi invece di pronomi utilizzo parole semplici e cerco di spiegare quelle difficili e quelle specifiche che man mano negli incontri andiamo ad introdurre nella spiegazione nella presentazione delle nostre opere utilizzo la forma attiva e affermativa io le semilitudini forse non è proprio la parola corretta userei tipo degli esempi anche qui porto degli esempi relativi anche ai miei vissuti personali per magari aiutare i ragazzi a comprendere un concetto ad ogni step riassumo brevemente il contenuto e chiedo sempre un feedback diretto per coinvolgere tutti i ragazzi qui siamo appunto nel dopo scuola di via costa dove iniziamo a rispondere a una semplice domanda perché hai scelto quest'opera e questa risposta inizia con delle esercitazioni quindi a livello orale per poi andare a lavorare sulla forma scritta il kit che vedete sulla sinistra sono semplicemente le opere che abbiamo trattato e che sono relazionate ai temi scelti dei ragazzi con delle prime parole chiave che poi man mano vengono integrate da nuove parole andiamo poi a effettuare una compilazione della scheda dell'opera scelta facciamo anche delle audio registrazioni per sentire la nostra voce nei vari step degli incontri e condividiamo con condividono i ragazzi con i propri compagni le loro esposizioni questo ad esempio è un'opera che ha scelto Iana e che presenterà il 27 di aprile nell'ultimo incontro dell'edizione di quest'anno facciamo poi delle prove di esposizione in museo come vedete qui e poi c'è un incontro finale che in realtà è una vera propria festa dove i ragazzi presentano le loro opere in modalità peer to peer ma in questo caso è presente tutta la rete di progetto e sono presenti anche tutti i vari professori delle scuole secondarie di primo grado che i ragazzi frequentano e è presente anche la responsabile del museo per la valutazione dei processi educativi faccio riferimento all'inspiring learning for all che è un framework per identificare genetic learning outcomes genetic social outcomes tra gli individui e le comunità i GLOWS in particolare sono proprio una famiglia di indicatori che misurano l'impatto dell'apprendimento dei musei e sono correlati al cambiamento o all'aumento o miglioramento degli indicatori che trovate scritti qui sotto che sono la conoscenza la comprensione abilità competenze comportamento e progressione divertimento ispirazione e creatività atteggiamenti e valori questa analisi la effettuiamo attraverso i metodi partecipativi di cui vi ho parlato prima ma soprattutto di un monitoraggio che viene svolto ad ogni incontro e tutte le osservazioni i feedback dei ragazzi vengono riportati su un portfoglio personale e questo è utile per monitorare l'evolversi dell'esperienza ma anche con un'eventuale rilevazione di nuovi bisogni e quindi per poter modificare e aggiustare il tiro se ci sono delle difficoltà come dipartimento a noi interessa soprattutto il processo quindi la valutazione dell'impatto è certamente importante l'output che è la presentazione dei ragazzi in una forma orale della propria opera scelta ma anche la loro capacità di migliorare la composizione scritta dell'italiano ma a noi interessa soprattutto tutto il processo che ha portato i ragazzi ad aderire all'iniziativa a presenziare a tutti gli incontri e ad impegnarsi in questo progetto i partecipanti sviluppano effettivamente competenze linguistiche di comunicazione e di relazione potenziano le proprie capacità espressive e creative e di fatto acquisiscono anche nuove conoscenze storico-artistiche del patrimonio veneziano molti di loro non erano mai stati in un museo e non erano mai stati in un museo civico veneziano che di fatto sono i musei della loro nuova città e soprattutto acquisiscono maggiore autostima io volevo concludere dicendo una piccola cosa che nelle scuole i ragazzi imparano a conoscere le diversità religiosi culturali imparano a far parte di una società allora in questo compito di cittadinanza attiva deve esserci anche il museo che è un luogo di dialogo di incontro di relazioni ma anche un formidabile strumento per migliorare o per conoscere una lingua straniera grazie Selsi Spoken Easy Language for Social Inclusion Partners are Zavod Risa RTV Slovenia Dislexi Verbundet Università Deli Studi Di Trieste Vieglas Valodas Agentura Vilnias Universitetas Vši informacijo Skaupimo Ir Sklaidos Centras Funded by the European Union Can Lud lernen Vedico Vies Is Trump Vies Is Is I Grazie.